L'accordo è partito per quanto mi riguarda l'importante era chiudere l'accordo politico. L'importante è che Forza Italia sia nelle condizioni di avere una squadra alle prossime comunali di Palermo che sia in condizioni di ottenere un risultato straordinario, la stessa cosa per le prossime regionali. Credo che questo sia un tassello importantissimo. Per noi sono tra le persone più per bene, più forti e più capaci che io conosca. E' qua in Sicilia fuori da Forza Italia, quindi averli portati dentro il nostro albo non c'è dubbio che è una vittoria importante.